Oltre 17 milioni di dosi di vaccino anti-influenzale acquistate dalle regioni, ma solo l'1,5% di queste, circa 250 mila, andrà alle farmacie. Garantiti quindi gli over 60, chi presenta patologie e gli operatori sanitari, il rischio è che non tutti i cittadini che lo vorranno riusciranno a proteggersi dall'influenza stagionale perché la quantità di vaccino disponibile nelle farmacie non sarà sufficiente. 250 mila dosi non sono sufficienti. Visto che a quest'epoca penso che, anzi sono sicuro che aumentare la produttività di vaccini non sia più possibile, siamo al primo di ottobre quindi questo non è più possibile, bisogna cercare di reperire vaccini sul mercato internazionale. Quali sono le vostre richieste al governo? Noi abbiamo bisogno di circa un milione, un milione e mezzo di dosi perché noi contiamo che la richiesta rispetto all'anno scorso verrà aumentata di circa il 50% da parte della popolazione attiva, cioè le persone come me e come lei che non hanno diritto alla vaccinazione gratuita, questo è giusto, però hanno diritto a potersi vaccinare. Il numero degli italiani che entrano in farmacia e chiede il vaccino cresce di giorno in giorno in modo esponenziale e non sono solo privati i cittadini a richiederlo. Le medie e le grandi imprese che hanno il medico aziendale stanno rivolgendosi a noi per poter vaccinare a loro spese i loro dipendenti, quindi stanno richiedendo i vaccini. Quindi molto probabilmente la cifra che noi abbiamo previsto è addirittura una previsione a ribasso.